Buon salve e benvenuti al riassunto dell'Inside Star Citizen del 17 giugno e del 24 giugno, iniziamo subito, ci saranno due eventi nella 3.14, Xenotet che ritorna in versione migliorata e Nine Tails Lockdown, un nuovo evento. Se Xenotet è un evento grosso che si sviluppa nel giro di svariati giorni, Nine Tails Lockdown è un evento PvP che si terrà più volte che durerà 3-4 ore. Il cambiamento maggiore a Xenotet è che ora la parte di rifornire la javelin è direttamente collegata all'andare in battaglia con la javelin, quindi se non viene protetta e subisce danni ci ritroveremo in battaglia con una javelin danneggiata, a meno da quello che ho capito io. Hanno sistemato un sacco di cose, il sistema riconosce meglio il fuoco amico non intenzionale, quindi se colpite per sbaglio una nave non diventerete improvvisamente pirata, è nemico pubblico numero uno, ecco. Tra l'altro se sparando per sbaglio ad una jaa amica si supererà il limite oltre il quale non è più considerato un incidente, si diventerà si ostili ma la durata dell'ostilità da parte dell'jaa cambia a seconda di quanto danno avete fatto, quindi se si supera il limite per rompello non diventerà una tragedia, ecco. In linea generale le jaa saranno più permissive, mentre contro i giocatori verrete consigliate ostili molto più facilmente. Nuovi dialoghi, istruzioni più chiare, maggiori ricompense basate sulla reputazione, per quanto riguarda le novità sempre di Xenotet. Niente il lockdown è invece questo nuovissimo evento PvP dove ci sono dei pirati che isolano una stazione di Stanton, aumentando di molto la difficoltà ad arrivare alla stazione. Crusader manderà dunque delle navi ad investigare, a chi dovremmo scortare, mentre i pirati pagheranno altri giocatori per aiutarli a mantenere il blocco sulla stazione e distruggere le navi di Crusader. Su come proseguirà non l'hanno detto, ma hanno specificato che ci saranno alcune cose da scoprire, insomma non tutto sarà spiegato. Dopo Ninetales ci sarà Jumptown 2, su un TM. Hanno poi mostrato nuovi loghi. Eclipse Mutual, l'assicurazione medica tutto incluso. E sì, è collegato al cloning. Tax Collection Bureau, branca della UII che si occupa delle tasse, se non potete pagare ci sono i lavori forzati. Causing Cross Custom Craft, officina di modifica per le navi. Il team degli effetti visivi ha lavorato sull'effetto dei thruster sul terreno in modo che sia relativo alla potenza e direzione dei thruster, molto figo. Stanno lavorando sul fuoco, nello specifico su come il fuoco viene influenzato dall'ambiente circostante, in modo che il suo comportamento sia coerente con le varie forze applicate. Stanno testando la tecnologia SDF per indirizzare fuoco e fumo nella nave. L'Aretalietro sta subendo una revisione per metterla in linea con le altre navi. Infine, hanno mostrato gli interni del grey box della Redeemer. La Ares è in grey box. Stanno ragionando su come rendere lo stile dell'HD della Drake. Stanno lavorando sul loot da trovare in giro. Esterni degli outpost coloniali con i props. E infine l'ospedale di Grimax è in white box, così come le cliniche più piccole che saranno presenti nelle stazioni. Passando all'altro in Star Citizen, Horizon sta arrivando nella 3.14. Hanno fatto sentire alcuni spezzoni della musica di Pedro, parlandoci sopra. Vi consiglio di recuperare il video originale se volete ascoltarla, merita. Potete trovarla anche su YouTube, credo. Sono davvero molto soddisfatti della resa della città tra le nuvole. Ci hanno lavorato per moltissimo tempo, concentrandosi anche su dettagli che possono sembrare. marginali, ma che fanno davvero la differenza a livello di impatto visivo. È una città turistica dove la moda locale riprende moltissimo lo stile americano anni 50. La città è molto essosta di risorse, è stata una sfida a cercare di ottimizzare e ci dovranno lavorare anche in futuro probabilmente. Hanno ragionato sull'illuminazione. In primis la città cambia molto tra notte e giorno, se è di giorno è tutto molto luminoso. Di notte vediamo invece queste luci più soffuse, calde, molto di atmosfera. Da molto l'idea di una città magica anche grazie a queste lucciole molto presenti. Inoltre la zona commerciale turistica ha luci con tannità più calde, mentre la zona industriale ha luci più fredde proprio per dare l'idea di un'area più funzionale. Sotto le piattaforme ci sono degli enormi thruster che tengono a galla la città. Per quanto riguarda invece le nuvole volumetiche hanno puntato per un aspetto più alieno, nonostante ciò abbia portato ad alcune difficoltà aggiuntive. Queste nuvole volumetiche non sono definitive, si lavoreranno e le miglioreranno in futuro. È una prima implementazione e se per ora lo vedremo solo su Crusader, in futuro saranno implementate anche nel resto del verso. La seconda parte del video è stata dedicata ad un backup, delle varie novità maggiori della TP-14, cosa che in genere salto perché se siete arrivati fin qui in Tria sapete molto bene quali saranno le novità. In ogni caso Crusader, Horizon, nuvole, condensatori, accordi navi, missili, sistema di scanning e radar reworkato. Tra l'altro radar e scanner FPS arriveranno molto presto su un TM. Però inoltre hanno fatto vedere la Taurus, eccola, e si vede come hanno rimesso un po' mano al cockpit della Connie, molto bellino. Infine, ultimissima cosa, hanno fatto vedere il suo render. Banalmente la polizia vi intima di arrendervi e voi se vi fermerete e spegnerete la nave verrete trasportati in carcere con uno sconto della pena. Tutto qui. E con questo abbiamo finito con Inside the Star Citizen della stagione, riprenderanno in Tria verso il 22 luglio. Qui è Marco Sars e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!